Ci sono due modi di dire, sono sieropositivo oppure vivo con l'HIV. Ecco, io mi sento più vicino al sono sieropositivo perché c'è proprio il concetto dell'identità. Io sono questo anche, ovviamente. È una mia caratteristica a cui non penso tanto, esattamente come non penso tanto di avere, non so, una certa forma del naso. Sono 29 anni che sono sieropositiva e sono qui, viva, lottatrice fino alla fine. L'ho scoperto grazie al medico quando è nato mio figlio. L'ho fatto l'esame alla madre, è saltato fuori che era sieropositiva, mi ha detto lei ha fatto il test. Mio partner infetto che non mi ha avvisato di esserlo mi ha contagiato. Ho pensato che sarebbe stato un grande problema e che la mia vita non sarebbe stata più la stessa. Nell'ignoranza di allora, io sinceramente pensavo di morire. Ho provato a scosermi da un ponte per buttarmi giù. Questa è stata la prima reazione che ho avuto, però qualcosa dentro di me mi trasteneva. Se tu ti batti per questa malattia, le probabilità dei guarigioni sono molto di più. È tanto la testa che conta. Ho proprio scelto di fare coming out e di dirlo pubblicamente, anche per cercare di rendere più reale questa cosa per me. Penso che non ci sia un momento giusto per dirlo. Ci siamo presi una cota con una persona che era sieronegativa. Una sera, insomma, gli ho detto ti devo parlare, lui era convinto che gli dicessi che non mi interessava come persona, invece gli ho raccontato questa cosa qui. Grazie a Dio la reazione è stata molto positiva, mi è stato risposto che per lui non cambiava niente. Lui è una persona speciale, comunque... è scappato. È una scusante. Cioè, mi fa comodo che tu sei seropositivo, così mi è più semplice mandarti via. Non ci sono problemi. Si c'è l'amore. Io dico questo, sicuramente non era innamorato di me. Purtroppo non l'ho ancora detto a nessuno e non ho intenzione di farlo. Questo vale per la mia famiglia stretta. Ma che mi ha stupito veramente è stata più la reazione di mia madre. Cioè, tipo, non ha mai né voluto dividere i bicchieri, le posate, avere delle accortezze particolari in bagno. Mia madre il giorno dopo è arrivata e mi fa, guarda, questo è il tuo asciugamano, queste sono le tue posate, questo è il tuo bicchiere. Il problema fondamentale, credo, dell'HIV ancora oggi è che mentre tutti gli aspetti che riguardano la nostra salute, i farmaci, le terapie che abbiamo, le aspettative di vita, i potenziali problemi di salute che non ci sono, insomma, se l'infezione viene trattata adeguatamente, se tutto questo è cambiato completamente negli ultimi anni, l'immagine e quello che le persone pensano dell'HIV è rimasto più o meno esattamente quello che era vent'anni fa. O eri siero positivo perché eri gay oppure eri siero positivo perché eri un tossico, quindi eri la feccia della società. Cioè, diciamo che un po' te la sei cercata, mi è arrivato, ecco. Colpa, colpa di vario tipo, cioè hai fatto troppo sesso, l'hai fatto in modo smodato, in modo sbagliato, in modo promiscuo. Lo stigma sociale sono le persone che nel mondo, quando dicono di essere, di vivere con HIV, perdono la casa, perdono il lavoro. L'ignoranza purtroppo uccide più del coltello. Si pensa che evitando le persone con HIV si avvise il virus. Vorrei dirlo a certe persone e mi rendo conto che non posso dirlo perché non capirebbero, non mi accetterebbero. Le mie migliori amiche non lo sanno, dell'HIV non se ne parla, è un paese che non informa. Posso dire che la mia vita è come era prima, cioè ero inquieto prima, sono inquieto ora, sogni e progetti prima o sogni e progetti ora. La malattia non ti toglie la vita, te ne dà una diversa. Devo dire che la mia diversa è molto meglio di quella prima. Io non penso che se noi per primi continueremo a nasconderci qualcuno scenderà in campo a lottare per noi. La possibilità di subire un rifiuto c'è, la possibilità di avere problemi sul lavoro c'è sicuramente, però queste paure sono più grandi perché quando si apre poi questo piccolo uscio e si mette il naso fuori ci si rende conto che fa meno freddo di quello che ci si aspettava.